Buongiorno, oggi comincia il nostro trekking con il percorso verso il rifugio Seigantini. La Magda non ha ancora bevuto grappa, però è già lì ubriaga. Siamo a 2000 metri di altitudine, sono 8.40 l'ho già detto e facciamo il rifugio Seigantini e tutti i leghetti che ci vanno intorno insomma dai di Carisello mi pare, non d'agonio, è tutto schifo